Buona giornata! Fai attenzione a questa cosa che sto per dirti, perché se la fai, se farai questa cosa, la tua vita cambierà immensamente e immediatamente e istantaneamente. Insomma, segui questo bellissimo pensiero del giorno. Noi diamo per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine. Cintia Ozic. Questa frase è fantastica e è fondamentale per la tua felicità e la tua pace. Impara a praticare la gratitudine. Impara tutti i giorni a, sia la mattina, a essere grato per il semplice fatto che ci sei, e sia la sera, fai, tieni il diario della gratitudine. Segna tutte le cose per cui devi essere grato e ringrazia Dio perché queste cose sono successe. Quindi la sera ringrazia perché queste cose sono successe. E non mi dire non ci credo, eh, stai bene perché io ti vedo, lo so che sei lì pronto a denigrare. No, succedono a tutti. Succedono anche a te. Sì. Comunque, mi raccomando, pratica la gratitudine. Perché la gratitudine è quella cosa che farà cambiare la tua vita da così a così in un nanosecondo, istantaneamente e in maniera grandissima e bellissima. Quindi io, per esempio, ringrazio tutti voi, uno per uno, sì, tutti e voi, tutti voi, i quasi 700 persone che seguono questi pensieri. Li ringrazio a uno a uno per darmi la forza di condividere con voi questi bellissimi pensieri. Un abbraccio grande, grande, grande a ognuno di voi. Daniele Paci, per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao.